Ben trovati con le notizie dal Consiglio regionale, con la prima riunione della giunta delle elezioni svoltasi nei giorni scorsi a Palazzo Pirelli, a cui spetta il compito di valutare e segnalare eventuali casi di ineleggibilità e incompatibilità dei nuovi consiglieri, la macchina politico-legislativa del Consiglio regionale e dell'undicesima legislatura inizia a muovere i primi passi. Su indicazione anche dei Presidenti dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza formalizzerà entro breve la delibera sulla competenza e campi di intervento che avranno le commissioni permanenti e le commissioni speciali. Il via libera definitivo è atteso dal Consiglio regionale che il Presidente Alessandro Fermi è già provveduto a convocare per il prossimo 24 aprile. Si è aperto a Milano il Salone del Mobile, la fiera internazionale dell'arredo e del design. Oltre 2.000 agli espositori e più di 200.000 metri quadrati l'area espositiva che propone progetti che intrecciano design, tecnologia, flessibilità, sostenibilità, qualità e creatività. Prodotti e soluzioni delle migliori imprese del settore che guardano alla casa del futuro. Presente alla cerimonia, ad inaugurazione, anche il Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. Vediamo. Il Salone del Mobile è diventato un evento fondamentale per la regione Lombardia. Peraltro io ho la fortuna di provenire da un territorio che ha nel legno arredo una delle colonne portanti. Questa è la rete Italia, la rete lombarda che funziona, che è modello per tutto il nostro paese e che devo dire è un modello che anche a livello europeo ci copiano. Gli italiani hanno una grande peculiarità che tutti ci invidiano è la capacità di innovare, è la capacità di creare. Abbiamo incontrato Carlo Lio, difensore regionale che si occupa di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini nella pubblica amministrazione. La mia è una funzione di mediazione, di conciliazione tra il cittadino che ha un problema, che lamenta un mancato riconoscimento di un diritto, una prestazione non data e la pubblica amministrazione è spesso sorda e spesso non adeguata ai bisogni dei nostri concittadini. La cosa importante è che è gratuita, ma il cittadino tiene sempre una risposta. Noi come ufficio trattiamo circa mille pratiche all'anno, quindi mille cittadini si rivolgano a noi per i loro problemi e quest'anno, l'anno in corso, già nel primo trimestre abbiamo registrato un incremento del 35% in più di pratiche. Noi soddisfiamo questi bisogni e credo che questi dati siano la dimostrazione che ci sono e c'è bisogno di difesa civica, abbiamo solo la responsabilità di far sapere ai cittadini lombardi che esistiamo, siamo professionali, ma siamo soprattutto un servizio gratuito. Siamo facilmente raggiungibili sia attraverso la pagina internet del sito regionale del difensore regionale, sia scrivendo al difensore presso Regione Lombardia via Fabio Filsi 22, sia telefonando. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Grazie per aver guardato il video! Grazie a tutti!